ciao a tutti oggi vi presentiamo i nostri coltelli da cucina sono coltelli professionali questo in particolare ha una lunghezza totale di 30 cm mentre la lama è 18 cm di lunghezza è indispensabile in ogni cucina adatto per carne pesce e verdure sminuzza taglia e trita perfettamente ogni tipo di cibo l'acciaio speciale garantisce un'elevata prestazione e una lunga durata è proprio costituito oltre ad essere acciaio inox da cromo molideno e vanaglio questa lega rende questi coltelli indistruttibili il manico è in materiale sintetico in polipropilene conforme a tutte le normative a tossico sterilizzabile lavabile in lavastoviglie qui vediamo il formato più grande è 24 cm la lunghezza della lama mentre 35 cm la lunghezza totale del coltello questo è un coltello altamente professionale ed è davvero un prodotto indispensabile in ogni cucina come abbiamo detto anche prima l'acciaio la lega di acciaio fa sì che questo sia resistente indistruttibile sempre affilato il manico è sempre dello stesso tipo entrambi hanno il loro astuccio sono dei prodotti di alta qualità tutti fatti a Premana in provincia di Lecco da maestri artigiani grazie per averci seguito vi aspettiamo per il nostro prossimo video e se vi interessano i nostri coltelli andate sul sito elettronicadidattica.com ciao a tutti a presto